Era il 12 novembre 2012 quando un ubifragio provocò il cedimento di circa 30 metri di cinta muraria nel comune di Cartoceto. Diverse abitazioni vennero evacuate ma i problemi non finirono qui perché a distanza di un anno una nuova bomba d'acqua rovinò le mura di piazza Garibaldi e di piazza Marconi dove si formò una voragine spaventosa di 10 metri per 20 profonda circa 10. Una situazione allarmante alla quale il sindaco Enrico Rossi cercò di rimediare in tutti i modi anche salendo sul braccio di una gru per attirare l'attenzione delle istituzioni, far sbloccare i fondi e risolvere i danni il prima possibile. Infatti i vincoli burocratici ricorse al TAR e il patto di stabilità impedivano l'inizio dei lavori. Cartoceto, un paese di 8.000 abitanti famoso per la DOP dell'olio, rischiava il crollo del borgo medievale. Queste sono le immagini girate nell'ottobre 2014 quando il sindaco, da poco eletto, annunciò una protesta clamorosa cominciando lo sciopero della fame e della sete, aspettando le risposte sul braccio meccanico del mezzo calato nel vuoto lungo via del santuario e il gesto del primo cittadino servì ad ottenere risultati. Guardate ad oggi infatti qual è la situazione. Grazie ai fondi del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile erogati dalla Regione Marche fu possibile iniziare i lavori. per un importo complessivo di 650.000 euro. L'intervento di restauro strutturale è stato concluso lo scorso febbraio. Stiamo andando avanti, i lavori stanno proseguendo con grande soddisfazione. Ancora siamo ovviamente ben distanti dal pieno recupero della cinta muraria di Cartoceto, però qua in Piazza Marconi sono da pochi giorni stati avviati i lavori pari a 182.000 euro di rifacimento ex novo di tutte le reti tecnologiche che tra l'altro, viste quelle che sono le perdite dislocate, sicuramente sono state una concausa importante rispetto all'imbibizione del terreno che poi di fatto ha spinto la cortina muraria e che è crollata nel 2013. L'importo utilizzato fa seguito ai 178.000 euro già spesi lo scorso anno per il consolidamento della piazza. Resterà un intervento di ulteriori 300.000 per innalzare completamente le mura. Fra due mesi invece partiranno i lavori anche in Piazza Garibaldi. Parliamo del secondo stralcio pari a 548.000 euro, i lavori dovrebbero verosimilmente partire a settembre, la dita avrà 240 giorni di tempo per completarli, il che significa entro la prossima primavera o estate, sperando che tutto vada bene, poter riacquisire la piena fruizione di Piazza Garibaldi. Con questo intervento, tra l'altro, visto che include anche alcune migliorie lungo via Cavour, dovremmo fortunatamente far rientrare al termine dell'intervento la famiglia che ancora purtroppo vive fuori dalla propria abitazione. Per terminare tutti i lavori saranno necessarie ulteriori risorse. Abbiamo ovviamente già intrapreso diverse strade con enti sovranazionali per il riperimento di questi fondi. Speriamo davvero che ne vada in porto qualcuna, almeno per riuscire a trovare copertura finanziaria rispetto a questo milione e mezzo di euro che ancora servirà per ritrovare il pieno recupero della cinta muraria di Cartoceto.